Musica Buona domenica e bentrovati al consueto riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 11 marzo. Disastro aereo in Etiopia. Fra i 157 passeggeri del volo precipitato c'era anche l'assessore regionale beni culturali della regione siciliana Sebastiano Tusa. Era diretto in Kenya per un progetto dell'UNESCO. La conferma è arrivata poco dopo le 14.30 di ieri pomeriggio. Fra i 157 passeggeri del volo dell'Etiopian Airlines precipitato c'era anche l'assessore beni culturali della regione siciliana Sebastiano Tusa. 66 anni archeologo di fama internazionale, sovrintendente del mare della regione siciliana, docente di paleontologia presso l'Università di Napoli. Dall'11 aprile 2018 era stato chiamato a ricoprire la carica di assessore beni culturali per la regione siciliana nell'aggiunta guidata dal governatore Nello Musumeci dopo le dimissioni del critico Vittorio Sgarbi. Negli anni 90 era stato responsabile della sezione archeologica del centro regionale per la progettazione e il restauro. Nel 2003 guidò gli scavi nell'isola di Pantelleria. L'anno seguente viene nominato come primo sovrintendente del mare. Ha organizzato missioni archeologiche in Italia, Pakistan, Iran e Iraq. Nel 2005 ha guidato gli scavi a Mozia, riportando alla luce sulla strada sommersa che conduce all'isola delle strutture identificabili come banchine. Nel gennaio 2010 era stato nominato socio onorario dell'Associazione Nazionale Archeologi. Nel 2012 era tornato a dirigere la soprintendenza del mare, prima di essere stato chiamato a ricoprire l'incarico di assessore. L'ultima sua iniziativa di grande richiamo era stata l'allestimento di una mostra di Antonello da Messina al Palazzo Reale di Milano. Figlio di un altro famoso archeologo, Vincenzo Tusa, Sebastiano Tusa lascia la moglie, Valeria Patrizia Livigni, direttrice del Museo d'Arte Contemporanea e Moderna di Palazzo Risa a Palermo, e i due figli, Vincenzo e Andrea. Sgomento e dolore tra i familiari e tanti colleghi che lo dipingono come un lavoratore instancabile e sempre disponibile. Sebastiano Tusa si è sempre fatto ammirare per la preparazione scientifica nel campo dell'archeologia, in particolare preistorica, spaziando su un piano non solo siciliano ma mediterraneo in generale. La sua scomparsa costituisce una grande perdita per la cultura siciliana, anche per la posizione di responsabilità nel governo regionale di assessore ai beni culturali, che ha esercitato con indiscussa competenza e signorilità, dando notevole impulso ad apprezzate molteplici iniziative, anche innovative, commenta così il prefetto di Palermo Antonella De Miro. Cordoglio è anche da parte del rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari. Il professore Tusa è stato un grandissimo studioso di fama internazionale, che ha guidato numerose e importantissime missioni archeologiche e ha contribuito a diffondere la cultura e il patrimonio storico e artistico della Sicilia. Per diversi anni è stato stimato docente presso il nostro Ateneo. La sua scomparsa è un'enorme perdita per tutto il mondo della cultura, per la nostra regione e per tutti noi. Esprimiamo alla sua famiglia le più sentite condoianze. Sgomento anche da parte del sindaco Leluc Orlando. Avevo incontrato Sebastiano Tusa pochi giorni fa con dei giornalisti tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre era stato appassionato, sorridente e disponibile. La Sicilia perde un professionista di grandissimo spessore, un vero luminare nel suo campo, che ha dedicato la vita, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, profondo conoscitore e promotore del valore dell'arte come motore di sviluppo sociale. Il presidente della regione siciliana, Nell'Umuso Meci, pur convalescente per un piccolo intervento chirurgico di routine, non ha voluto far mancare il suo commosso ricordo nei confronti dell'assessore. In segno di lutto ha disposto bandiera a mezz'asta in tutti gli uffici regionali. Fino all'ultimo abbiamo sperato che la notizia fosse infondata e quando abbiamo avuto la conferma ci siamo sentiti ammutoliti, affranti, senza parole. Sebastiano Tusa non era soltanto un amico, era un assessore appassionato, un archeologo di fama internazionale instancabile. Ancora raid vandalici contro il centro Padre Nostro a Brancaccio dove sorgerà l'asilo i piccoli di treppi. Il centro Padre Nostro a Brancaccio resta ancora oggetto di intimidazione e atti vandalici nel luogo dove dovrà sorgere l'asilo i piccoli di treppi dedicato a padre Pino Poglisi. Dopo la consegna del progetto definitivo da parte del centro d'accoglienza Padre Nostro al sindaco di Palermo, alcuni ignoti avevano trafugato lo strescione raffigurante dell'iniziativa e dal cancello erano stati sottratti catenacce e catena. A renderlo noto il presidente del centro Maurizio Artale che passando con l'auto aveva intravisto tre ragazzini che al suo richiamo gli avevano urlato contro che in quella zona non si sarebbero costruiti asili. A distanza di poche ore i vandali hanno fatto una nuova eruzione nell'area in cui sorgerebbe il nuovo asilo appiccando un rogo nel terreno circostante, dando fuoco a un cumulo di spazzatura. E sempre nella notte qualcuno ha rotto uno dei vasi posizionati davanti alla sede del centro Padre Nostro. I nuovi inquietanti segnali registrati a Brancaccio non rallenteranno minimamente l'intervento dello Stato. Il Movimento 5 Stelle esprime vicinanza al presidente e alla comunità di Brancaccio. Hanno commentato così i parlamentari di Palermo, Roberta Laimo, Steni di Piazza, Valentina Dorso, Aldo Penna, Giordo Trizzino, Adriano Varrica. Un fatto inquietante da non sottovalutare che certamente però non cambierà i programmi agli obiettivi del centro Padre Nostro, né quelli della città a suo fianco per il riscatto di Brancaccio. Agli operatori del centro va tutta la mia solidarietà unita all'impegno perché l'asilo per i piccoli di 3P sia presto una realtà. Lo ha dichiarato Leolo Corlando. Il segnale ormai è chiaro. Qualcuno a Brancaccio non vuole che qui si costruisca l'asilo nido, dice allarmato il presidente del centro Padre Nostro, Maurizio Artale, che ha lanciato un appello allo Stato. La paranza di Brancaccio ti ha lanciato il guanto della sfida. Adesso la prossima mossa tocca a te lasciare lo Stato delle cose così come sono o cogliere immediatamente la sfida e cambiare le cose. Come diceva il nostro fondatore, noi volontari del centro da soli non ce la possiamo fare, anche se non ci arrenderemo mai. La CGL interviene chiedendo un rafforzamento della vigilanza nell'aria. I controlli devono essere intensificati. Respingiamo ogni tentativo di intimidazione. Chiediamo alla magistratura e alle forze dell'ordine, dichiara il segretario generale CGL Palermo Enzo Campo, di fare piena luce su questa escalation preoccupante di atti di violenza. E siamo al fianco degli operatori del centro e di tutti i lavoratori impegnati alla realizzazione del progetto. Nei prossimi giorni saremo con una delegazione a Brancaccio, dove la CGL è presente da sempre con un suo presidio per rafforzare l'opera di chi lavora ogni giorno per l'affermazione dei diritti e della legalità. Primo appuntamento per la stagione Kids del Teatro Massimo, ospite d'eccezione Elio. Il primo appuntamento per la stagione Kids del Teatro Massimo è stato preceduto da un minuto di silenzio in omaggio alle vittime del disastro aereo in Etiopia, tra le quali anche Sebastiano Tusa, insigne archeologo e assessore ai beni culturali della regione siciliana. Il concerto della Massimo Kids Orchestra, composta da 200 giovanissimi musicisti e cantanti, a partire dai sette anni di età, diretta da Michele De Luca, ha visto come acclamati ospiti Elio, protagonista di tante incursioni nella musica classica, sia con il suo gruppo Elio Le Storie Tese, sia da solo, e Francesco Micheli, autore anche della drammaturgia dello spettacolo. In programma l'introduzione di un giovane all'orchestra e Pierino e il Lupo, due classici del Novecento, pensati per presentare l'orchestra classica ai giovani ascoltatori, qui uniti in un'unica cornice. Grande partecipazione da parte del giovanissimo pubblico, che ha seguito le avventure del farlocco direttore d'orchestra, interpretato da Elio, che tentava di rubare podio e bacchetta al direttore Michele De Luca, contrastando allegramente con Francesco Micheli. Prossimo appuntamento per la stagione della Massimo Kids Orchestra, il 26 maggio alle 18.30 in Sala Grande, per un concerto con musiche di autori sempre sotto la direzione di Michele De Luca, con la Massimo Kids Orchestra e il coro di voci bianche del Teatro Massimo, diretti da Salvatore Punturo. Martedì 12 marzo, mafia, nuovo colpo alla cosca di Porta Nuova, 32 arresti a Palermo, l'operazione denominata Atena è scattata all'alba di martedì. Sono 32 gli indagati, ritenuti a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni, trasferimento fraudolento di valori, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi. È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare detentiva emessa dal GIP del Tribunale su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. L'indagine costituisce un'ulteriore fase di un'articolata manovra investigativa condotta dal reparto operativo nucleo investigativo anche sul mandamento mafioso di Porta Nuova. Alcuni degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini erano già confluiti nel provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Palermo ed eseguito il 4 dicembre 2018 nel corso dell'operazione Cupola 2.0 con cui è stata smantellata la nuova commissione provinciale di Cosa Nostra Palermitana quando furono tratte in arresto 11 persone ritenute appartenenti al mandamento mafioso di Porta Nuova. Tra gli arrestati anche Gregorio Di Giovanni che secondo le indagini al momento della sua scarcerazione nel 2015 aveva immediatamente affiancato il reggente del mandamento Paolo Calcagno prendendone poi il posto. Gregorio Di Giovanni affiancato dal fratello Tommaso avrebbe gestito le attività illeciti nei quartieri del capo della vucceria di Ballarò e della Zisa. Nel corso delle indagini è emerso inoltre che Paolo Calcagno avrebbe durante i colloqui in carcere con la moglie e il cognato fornito indicazioni sulle persone alle quali rivolgersi per ricevere i profitti dei pregressi investimenti economici realizzati in attività commerciali pienamente funzionali e attive. Non manca la droga che resta tra le principali fonti di reddito. Il mandamento mafioso di Porta Nuova aveva infatti organizzato le piazze di spaccio di sostanze stupefacenti dirette soprattutto agli imprenditori e liberi professionisti della città. Individuate anche due attività riconducibili agli esponenti di vertice di Cosa Nostra ma intestate a prestannome e quindi sottoposte a sequestro preventivo. Sempre in ambito commerciale gli indagati imponevano la fornitura di caffè a bar del territorio ed estorcevano denaro a imprenditori e commercianti. Termini Imerese arrestati i vertici della Blutec sono accusati di avere distratto ingenti finanziamenti pubblici erogati da Invitalia. Il rilancio dell'ex Fiat di Termini Imerese si allontana nel peggiore dei modi. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziario della Guardia di Finanza di Palermo al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo per 16 milioni di euro nei confronti di Cosimo Di Cursi e Roberto Ginatta, rispettivamente amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione della Blutec S.p.A. Di Cursi al momento si trova in Brasile dove il gruppo della famiglia Ginatta dispone di un sito produttivo. Gli indagati sono accusati di avere distratto ingenti finanziamenti pubblici erogati da Invitalia per sostenere il programma di sviluppo finalizzato alla riconversione e riqualificazione del polo industriale di Termini che prevedeva la realizzazione di una nuova unità produttiva presso gli opifici della ex impresa FCA Italy S.p.A. per la produzione di componentistica automotive. La Blutec S.p.A. costituita nel 2014 con sede a Pescara ha sottoscritto nel 2015 l'accordo di programma con i dicasteri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con la regione siciliana e il comune di Termini per un importo complessivo di circa 95 milioni di euro chiedendo agevolazioni pubbliche per oltre 71 milioni. A partire dal dicembre 2016 sono stati erogati alla società circa 21 milioni a titolo di anticipazione. Le indagini hanno consentito di dimostrare che almeno 16 dei 21 milioni di contribuzioni pubbliche non sarebbero mai stati impiegati per i fini progettuali previsti né restituiti a scadenza delle condizioni imposte per la realizzazione del progetto 31 dicembre 2016, termine pro e prorogato fino al 30 giugno 2018. A tutt'oggi, nonostante l'arrevoca del finanziamento intervenuta ad aprile del 2018, le procedure di restituzione non sono state ancora avviate. Di corsi e ginatte inoltre sono stati raggiunti da un provvedimento di una misura interdettiva concernente il divieto per la durata di 12 mesi di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche delle imprese. L'azienda, al cui valore supera i 100 milioni di euro e le sue numerose unità locali sparse in tutto il territorio italiano, compreso lo stabilimento di Termini, sono state sequestrate al fine di evitare la prosecuzione di condotte di malversazione e affidata ad un amministratore giudiziario che aveva il compito di assicurare la continuità aziendale della società. Cerimonia commemorativa a Palermo dell'anniversario dell'omicidio di Gio Petrosino. Oggi essere presente qui assieme al mio figlio Rosario, al mio amico il maestro Carmelo Elmo per aver realizzato quest'opera che resterà a futura memoria di questo grande personaggio e ricevere i riconoscimenti che ci sono stati. L'Ade mi ha commosso moltissimo perché per me è un fatto veramente di grande importanza per la mia famiglia, perché mi ha collaborato e per la mia città e la mia terra amata di Sicilia. Un ricordo che deve essere rinvigorito ogni volta perché quello che fu il sacrificio di Gio Petrosino aprì poi la strada a una lotta alla mafia che ancora oggi non conosce quartiere. Noi dobbiamo sempre portare rispetto a chi è caduto nell'adempimento del proprio dovere, soprattutto nella guerra e nella lotta alla mafia. Chi ha portato un uniforme, chi ha fatto il semplice dovere di proprio cittadino onesto, i magistrati, coloro che hanno reso possibile questa lotta sempre più forte e tenaci. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le modalità con cui la mafia si insidia, sono cambiate anche le modalità con cui noi oggi combattiamo la mafia. Strappare le radici, togliere il patrimonio, privare la mafia dei beni su cui si pose il sodalizio mafioso è un'azione sulla quale non abbiamo mai finito di operare. Ringrazio e la cittadinanza e le associazioni, in questo caso Sicilia, Padula e New York, che insieme a me portano avanti questo discorso, a conferma che la stragrande maggioranza delle persone è gente per me e questo impegno soprattutto dell'Associazione Sicilia e dell'Istituto Superiore per la Difesa delle Tradizioni di Palermo sta a significare appunto e a sottolineare che la maggior parte delle persone è persone per bene. Siamo oggi a celebrare le celebrazioni di Petrosino, diciamo, qui a Piazza Marina, perché noi da tanto tempo, da tanto tempo, noi portiamo sempre, ma in Italia e dappertutto, portiamo il nome di Petrosino, facciamo il premio Petrosino, che l'anno scorso l'abbiamo anche uno dei giudici Leonardo Guarnotti, è stato premiato da noi a Padula, De Rago, Gratteri, tanti, 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 alla memoria, Falcone, Bersellino e continuiamo a fare e portiamo avanti questi lavori. Mercoledì 13 marzo, presidio a Termini Imerese dei lavoratori Blutec. La Cigelle Palermo chiede che il governo convochi subito le parti. La Cigelle Palermo è al fianco da ieri degli operai della Blutec di Termini Imerese, in presidio anche questa mattina davanti ai cancelli. Oggi prenderà parte all'incontro con i sindaci al comune di Termini Imerese. Come la FIOM e la Cigelle Nazionale, anche la Cigelle Palermo sottolineano la necessità di una convocazione immediata da parte del governo. Non vogliamo che si speculi sulla pelle dei lavoratori metallomeccanici e che si continui a martoriare un territorio che nella nostra provincia è stato trattato dalla classe imprenditoriale e dalla politica con superficialità e approssimazione, dichiara il segretario confederale Cigelle Palermo, Calogero Guzzetta, che ieri ha preso anche parte all'Assemblea dentro lo stabilimento. Chiediamo che il governo convochi immediatamente tutte le parti in causa per evitare di perpetrare un doppio dramma. Il primo è che a fare le spese e la mala gestione manageriale siano sempre i lavoratori. E il secondo è un dato che ancora una volta emerge, cioè che quella di Termini e le altre zone industriali del nostro territorio, Brancaccio e Carini, siano state totalmente abbandonate. La politica ha grosse responsabilità che non si esauriscono solo nel venir meno di adeguati ammortizzatori sociali, ma soprattutto vanno viste alla luce dei mancati investimenti in opere e infrastrutture senza le quali l'area industriale di Termini perde in competitività e sarà sempre meno appetibile. La Cigelle Palermo chiede che i lavoratori siano tutelati. Chiediamo che la tutela non si esaurisca soltanto con la protezione degli ammortizzatori sociali, ma che vi sia la salvaguardia vera dei livelli occupazionali e che si ripensi all'area termitana come una zona di complessità strategica di cui ha bisogno non solo la Sicilia ma il paese intero per la sua crescita complessiva. La fuga del lingotto per la Cigelle rappresenta l'ennesima beffa in un territorio già desertificato. Basti pensare che delle 86 fabbriche che insistevano su quest'area industriale di cui la principale era la Fiat, ben poche sono rimaste aperte, aggiunge Guzzetta. La Cigelle metterà in campo nei prossimi mesi una nuova iniziativa sulle aree industriali con al centro l'area di termini con proposte sul manifatturiero sulle quali ci confronteremo con il territorio, con il mondo delle imprese, con l'associazionismo e le istituzioni. A Palazzo delle Aguile a Palermo si sono insediati i nuovi assessori comunali. Una straordinaria ulteriore conferma della nostra volontà di far crescere questa città che è profondamente cambiata, che deve continuare a cambiare, ispirandosi al principio io sono persona, noi siamo comunità, che è l'alternativa rispetto a io sono individuo, noi siamo gruppo, che è un'alternativa a una logica egoistica e di appartenenza soffocante, una giunta nuova che vede la partecipazione a questo incontro, gli assessori anche oscenti. conferma di una continuità di esperienza ma anche di un'innovazione per raggiungere l'obiettivo di una Palermo mediterranea del 2030. Abbiamo scelto il 2030 che è una data svincolata da scadenze elettorali, tanto quelle del 22 quanto quelle del 27. È un modo per dire sostanzialmente che qui non siamo in presenza di una giunta che viva la giornata ma di una giunta che aveva e ha e continua ad avere un grande progetto e una visione di futuro. Da vice sindaco della città il sindaco ha voluto darmi anche questa tele che lo ringrazio per la fiducia, sono davvero tanti. Prima cosa che faremo e che proporrò l'aggiunta del sindaco è la riorganizzazione del personale. È un provvedimento su cui intendo veramente impegnarmi impegnarmi perché io credo che la macchina comunale deve in qualche modo tracciare un nuovo passo. Lo faremo nei prossimi giorni, la presenterò al sindaco e alla giunta per provare a valorizzare le tante risorse che esistono all'interno dell'amministrazione comunale che meritano molto rispetto e credo che sia un fatto importante. E poi valorizzare anche il rapporto con la Polizia Municipale. Io credo che se riusciamo a mettere in moto un meccanismo positivo tra i dipendenti dell'amministrazione comunale e la Polizia Municipale possiamo dare un grande segnale di ripresa, un grande segnale di rilancio dell'azione di governo della nostra città. Abbiamo una ricchezza culturale molto importante, bisogna ascoltarli, capirli e il tutto per cercare di valorizzare il patrimonio che abbiamo ereditato con Manifesta Palermo Capitale delle Culture. I prossimi obiettivi saranno sempre quelli di far capitale di tutto quello che abbiamo preso in passato. Mi riferisco a Manifesta, mi riferisco a Capitale della Cultura che hanno lasciato energie non solo culturali ma anche a livello organizzativo, di sistema che noi cercheremo di mantenere, di conservare per tutti gli eventi futuri. E soprattutto nei primi mesi del mio impegno saranno dedicati ad ascoltare, conoscere e approfondire le esigenze di tutti gli operatori culturali del territorio. Noi siamo una città con grandissime energie artistiche e culturali e vorremmo capire un po' le loro esigenze per cercare di conciliare le loro esigenze con il nostro progetto di Palermo Cultura. Quindi sarà un momento di ascolto, di dialogo, di confronto e soprattutto l'obiettivo finale è che Palermo sia la capitale italiana, europea, del Mediterraneo anche culturalmente, se non soprattutto culturalmente. I primi impegni saranno cominciare a ragionare per costruire una città per i prossimi tre anni. L'obiettivo di mandato è quello di approvare il piano regolatore generale della città per costruire sempre di più una città a misura di bambino, una città ecologica che riduca il numero di macchine circolanti nella città di Palermo. Questo è l'obiettivo di mandato che sarà immediatamente pianificato con l'attività dei primi 100 giorni. A Bagheria sono iniziati già i festeggiamenti per il patrono San Giuseppe. La festa del Santo Patrono è in dubbio deve comportare una specifica connotazione religiosa di devozione e di fede. Tuttavia non può non rivestire un momento di riflessione su quei valori che costituiscono fondamento del retto vivere civile nella difesa dell'onestà e della legalità. Su questa linea di chiarezza e di fermezza si colloca il recente documento del nostro arcivescovo Don Corrado Lorefice in merito alla presenza nelle confraternite, nella gestione di feste religiosi o patronali di elementi che non hanno nulla a che spartire con i valori della vita cristiana. È un documento che vuole rivalutare la genuina espressione cristiana della pietà popolare come espressione nota nel documento dell'arcivescovo come espressione ed esperienza comunitaria come riserva di valori da custodire e incrementare. Noi devo dire e devo allorare tutte le nostre congregazioni e confraternite che non hanno nulla a che spartire con queste devianze perché lì si vive e si nutre una autentica espressione di vita religiosa. Adesso vorrei brevemente puntualizzare i punti salienti di questa festa. Sostengo sempre che San Giuseppe, sì, è alla Chiesa Madre, ma il patrono di Bagheria appartiene a tutta Bagheria. Nessuno escluso. Per questo sono molto contento che tutti i parrucci di Bagheria con le loro rispettive comunità hanno aderito a presenziare alla celebrazione ogni giorno della novena. Il mattino gireremo tutte le scuole elementari, in particolare di Bagheria, per rinnovare le antiche tradizioni, non soltanto religiose, ma artistiche e di arte culinaria perché non si perda la tradizione dei valori religiosi e dei valori culturali inerenti a San Giuseppe, ma inerenti alla nostra fede religiosa. Ho accolto con molta gioia questo invito di padre Giovanni Lamentola che è stato mio collega all'ITC di Bagheria quando io ero insegnante. Diventata dirigente scolastica dell'Istituto Regina Margherita di Palermo, un mio primo obiettivo era stato quello di organizzare molti ragazzi che frequentavano il nostro liceo musicale sperimentale in orchestra, ma c'erano pure delle voci bellissime per cui ho dato vita non solo all'orchestra filarmonica ma anche al coro polifonico Regina Margherita che si è formato nel 2002-2003 con un protocollo col Conservatorio Bellini di Palermo. L'orchestra ha negli anni maturato questa esperienza e nel 2007 è stata invitata dal presidente napolitano a suonare per lui a Castelporziano. È stata invitata anche dal ministro della pubblica istruzione Germini e ha suonato per l'onorevole Luigi Berlinguerri, presidente del comitato scientifico e musicale della scuola italiana nel cortile della Minerva a Trastevere. Ma questo è stato solo l'inizio perché questi ragazzi, quest'orchestra è formata da giovani e mi collego a quell'idea del convegno che si farà qui venerdì perché questo è l'aspetto migliore, l'aspetto pulito di una Sicilia che si riscatta. Giovedì 14 marzo la giunta regionale si è riunita a Palazzo d'Orlean per la prima volta dopo la tragica scomparsa dell'assessore ai beni culturali Sebastiano Tusa. La giunta regionale si è riunita a Palazzo d'Orlean a Palermo per la prima volta dopo la tragica scomparsa dell'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa avvenuta nell'incidente aereo di domenica scorsa in Etiopia. In apertura della seduta, presieduta dal vicepresidente Gaetano Armao, vista l'assenza del presidente Nello Musumeci, ancora convalescente dopo un piccolo intervento chirurgico, l'archeologo è stato ricordato con un commosso minuto di silenzio, al posto che l'assessore normalmente occupava nella sala di giunta un mazzo di fiori. Quindi il governo regionale ha deciso di approvare proprio le ultime proposte avanzate da Tusa nelle scorse settimane. Con la prima delibera è stato deciso di finanziare, con 5 milioni di euro del patto per il Sud, sei interventi di risanamento e valorizzazione di alcuni edifici dell'isola. In particolare, circa 2,6 milioni di euro verranno utilizzati per il castello di Maredolce a Palermo, restauro dell'edificio del complesso, realizzazione di una piazza nell'area antistante e sistemazione del parco. Gli altri 2,4 milioni di euro sono destinati invece alla manutenzione straordinaria delle coperture, al restauro delle superfici colorate e al trattamento dei soffitti del Duomo di Monreale. Il governo musumeci ha dato il via libera anche a due disegni di legge proposti in precedenza da Tusa, che modificano la precedente normativa sul Consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici, legge 80 del 77, e sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia, legge 20 del 2000. Tornano gli esuberi al call center Almaviva, accordo nella notte, aziende e sindacati per nuovi incentivi all'esodo a Palermo. Dopo una riunione fiume, i sindacati delle telecomunicazioni hanno siglato ieri sera l'accordo su Almaviva Contact di Palermo, che prevede un altro ciclo di ammortizzatori sociali al 35%, formazione e incentivi all'esodo. L'obiettivo è prolungare gli ammortizzatori sociali per far fronte alla criticità che ha investito e continua ad investire il settore dei call center. L'azienda si è presentata all'appuntamento con i sindacati nella sede di Sicindustria, con una nuova proposta rispetto a quella sottoscritta poco tempo fa. Almaviva soffrirebbe dettagli e volumi di traffico. Al momento, sul sito di Palermo, si registra la proroga di quattro mesi della commessa all'Italia, sul cui futuro non vi sono ancora certezze, mentre continuano a persistere contrazioni significative di volumi sulle commesse Wind e Team 119. Motivi che hanno indotto l'azienda a chiedere il ricorso agli ammortizzatori sociali fino al 30 giugno, con una percentuale media del 35%, con picchi massimi del 40%. Dal 20 marzo al 16 aprile con il Fondo di integrazione salariale, mentre dal 20 aprile al 30 giugno attingendo alla Cassa Integrazione Inderoga. Nella finestra temporale che va dal 16 al 20 aprile verranno effettuati gli esodi incentivati, mediante licenziamento non appositivo che garantisce l'accesso alla Naspi. I lavoratori interessati, circa un centinaio, potranno scegliere tra due modalità di incentivo, o il pagamento immediato all'uscita del mancato preavviso, più due mensilità, oltre 500 euro della conciliazione, ovvero il versamento degli importi, 10.000, 15.000, 20.000 euro in base al profilo orario, interrata in 24 mesi. Il repentino cambio di scenario e l'assordante silenzio delle istituzioni ci obbliga a misure difensive al fine di garantire la continuità occupazionale del sito palermitano di Almaviva e riportare al centro dell'agenda politica del Paese le problematiche del settore dei call center, scrivono le segretarie provinciali e le RSU di SLC-CGL, Fistel Cheese, Wilcom Wheel e UGL, investito da pesanti arricature tecnologiche e da una carenza di regole che fino ad oggi non hanno saputo garantire un rapporto corretto tra committenti, outsourcer e processi di delocalizzazione. Presentata Villa Niscemi a Palermo, la Strapalermo, corri Strapapà 2019 che si svolgerà il prossimo 24 marzo. Ci auguriamo di andare al di là dei numeri che abbiamo registrato lo scorso anno considerate che lo scorso anno ci sono stati circa 15.000 partecipanti perché il format è molto semplice cioè il piccolino partecipa, la mamma e il papà lo può anche accompagnare lungo questo percorso. Si svolgerà il 24 marzo a Palermo, vi invitiamo tutti è una festa della città ringraziamo quelli che sono stati accanto a noi e voglio ringraziare un ente in particolare che è la Fondazione Teleton vi ricordo che parte del ricavato dell'iniziativa verrà devoluto in favore della Fondazione Teleton in favore dell'attività di ricerca di Fondazione Teleton che è impegnata da quasi 30 anni Italia nella ricerca e nella prevenzione delle malattie genetiche rare La manifestazione, visto che abbiamo avuto il grossissimo successo degli anni passati prenderà nuovamente il via dalla via Gavur, zona Feltrinelli si scenderà per via Roma si prenderà tutto in controsenso via Roma si arriverà fino in via Torino si svolterà per via Macheda e si ritornerà la Strapapà verrà svolta soltanto con un giro e partirà alle ore 11 mentre due ore prima verrà fatta, come diceva Mimmo Totoro la Strapalermo che in poco parole è una podistica cronometrata aperta a tutti senza vincoli eccessivi di certificazione e robe varie e permetterà a tutti gli atleti di potersi cimentare in un circuito di tre giri da 3 km 150 metri quindi 9 km e mezzo circa sono riuscito ad avere a noleggio questa macchina che è il ReWalk che poi magari vi farò vedere e vi spiegheremo magari come funziona che ci permette di ritornare a camminare è stato un percorso molto bello anche perché è stato vissuto pienamente mi ha regalato tantissime emozioni perché l'ausilio prevede che venga addestrato un car giver nello specifico in questo caso è stato mio figlio Nicolò che mi ha accompagnato durante tutto il percorso e non vi dico l'emozione stupenda di camminare assieme a lui dopo sei anni un appuntamento che sta dentro la ripresa da parte dei parlamentari della nostra città il 17 marzo inauguriamo domenica in favorita che è una grande partecipazione dei cittadini, delle cittadine, dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e domenica 24 tutti a strapapà venerdì 15 marzo la Sicilia è scesa in piazza per salvare il pianeta manifestazioni di giovani in tutta l'isola grande folla a Palermo oggi siamo in piazza come studenti come in tutto il mondo per apporci a questo modello di sviluppo che sfrutta territori, sfrutta persone un modello che sta distruggendo la nostra terra che è una e che dobbiamo difendere questo modello che non va solo a distruggere il clima ma per esempio rientra anche nel modello delle grandi opere inutili le opere non volute dai cittadini come il MUOS, la TAV, le Trivelle che distruggono territori ammalano le persone, spendono milioni e milioni di euro di fondi pubblici che dovrebbero essere usati per il benessere delle persone per la sicurezza dei territori e anche per esempio per gli studenti chi invece sono usati per perdere questo modello di sfruttamento e di devastazione dei territori che non è voluto dalle persone ma è voluto solo dai grandi potenti che ci fanno solamente profitto non ci sono mai pesci senza microplastica dentro e io mi chiedo che facciamo fra 50 anni non possiamo più distinguere fra plastica o pesce partire dai giovani la riscossa la politica sembra non aver prestato sufficiente attenzione sì siamo qua per far arrivare questo messaggio che è già troppo tardi per i politici di agire si deve fare qualcosa adesso perché la plastica è ormai entrata nel nostro circolo di nutrizione i giovani hanno ragione perché non c'è tempo da perdere se ne è perso già troppo non possono loro aspettare che diventeranno grandi per cambiare le politiche energetiche del paese il governo italiano deve farlo da domani mattina si fa in maniera molto semplice noi ogni anno diamo alle rinnovabili 14 miliardi di euro di incentivi e ci sono sempre grandi polemiche è bene ricordare ancora oggi che alle fossili e al petrolio noi diamo 16 miliardi di euro ogni anno di sussidi ecco se questi sussidi alle fonti inquinanti venissero cancellati da domani mattina le rinnovabili potrebbero ulteriormente prendere piede nel sistema energetico nazionale e questo sarebbe un beneficio per la lotta ai cambiamenti climatici ridurremmo lo smog dei territori dove ovviamente si bruciano i combustibili fossili per il trasporto piuttosto che per l'energia elettrica, piuttosto che per la produzione industriale e sarebbe anche un contributo importante per ridurre la bolletta molto pesante e energetica che paga il nostro paese a me sorprende la reazione dei ragazzi io ero convinto che il tema fosse poco sentito e invece scopro che proprio nei ragazzi dobbiamo avere fiducia invece il problema è davvero sentito dobbiamo ascoltare la loro voce ed essere conseguenziali dobbiamo dare una risposta immediata io credo che i giovani abbiano ragione c'è una grande questione ambientale che serve per la tutela del pianeta per questa ragione bisogna immediatamente adoperarsi per fare tutte le scelte politiche possibili che vadano verso una direzione diminuire le emissioni, diminuire il numero di automobili circolanti diminuire il numero di pressione sul nostro ambiente perché sempre di più stiamo distruggendo la nostra terra e quindi stiamo distruggendo il nostro futuro Situazione delle partecipate al Comune di Palermo ascoltiamo il consigliere del Movimento 5 Stelle Concetta Amella Lo stato delle partecipate è quello del profondo rosso conti sempre più rossi che io definirei anche Bordeaux servizi scadenti e lo dimostra la mancanza di decoro della città strade dissestate, marciapiedi distrutti discariche ovunque, campane strapiene, servizi inesistenti e questo vale sia per una delle aziende più citate cioè la RAP ma anche per trasporti lenti laddove ci sono e totalmente assenti nelle periferie per poi non parlare di un'azienda della quale non si parla mai che la SISPI che è profondamente a ritardo rispetto all'agenda digitale Ci sono soluzioni? Io ritengo di sì intanto bisognerebbe provvedere alla rimodulazione dei contratti di servizio alla presentazione di un piano di risanamento per la RAP e per l'AMAT ma anche per esempio cosa di cui non si parla mai a una riorganizzazione del personale in linea con le competenze il profilo e i titoli di studio dei dipendenti perché non si può parlare sempre di assunzioni e mai di una riorganizzazione interna all'azienda è per noi fondamentale ZTL, primo bilancio del provvedimento adottato dal Comune di Palermo ascoltiamo i consiglieri comunali Sabrina Figuccio e Marcello Susinno Nel cuore di Palermo possiamo fare un primo bilancio della ZTL? Sì, sono trascorsi ormai alcuni anni ma i palermitani non ci stanno e non sanno più come dirlo certamente non bisogna giustificare gesti di non pagamento delle tasse o delle sanzioni come in questo caso ma bisogna pur dire che i palermitani non ce la fanno più considerano ingiusto un provvedimento come quello della ZTL e lo stanno dimostrando con i fatti non pagando le sanzioni che sono state combinate perché è evidente dai dati che ci ha fornito la SISP che meno del 20% dei palermitani in effetti paga queste sanzioni siamo passati quindi da quella che è stata definita come una sorta di disobbedienza civile del sindaco Orlando a proposito della residenza anagrafica a quella che potremmo chiamare una sorta di disobbedienza sociale quella cioè che stanno mettendo i palermitani in atto per far comprendere una volta e per tutta questa amministrazione che questo provvedimento è sbagliato Via Roma muore ogni giorno e questa è la testimonianza plastica una via Roma totalmente desertificata e a pagarne le spese sono commercianti e residenti quello che è il provvedimento della ZTL sostanzialmente regge anzi ci sono comitati di cittadini nonché la prima circoscrizione che vanno nella direzione di aumentare la fascia oraria anche nelle ore notturne il nuovo assessore alla mobilità dovrà fare anche queste valutazioni perché tutto sommato quello che è la ZTL cioè uno dei provvedimenti più importanti dell'amministrazione Orlando sostanzialmente regge è la circostanza che solo il 3% dei ricorsi rispetto a chi ha dimenticato il pass è un dato significativo che sostanzialmente viene accettata la sanzione Ed è tutto, grazie per essere stati con noi vi auguro ancora una buona domenica Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti